Il secondo partecipante si chiama Daniele Mosca. Applauso! Caro Daniele, Daniele caro, quanto tempo. Raccontaci di te, chi sei, cosa fai e perché. Sono un ingegnere per il territorio, lavoro per il comune di Settimo e sono appassionato di lettura e di struttura e di musica. Quando e quanto tempo fa hai scritto questo soggetto che ci proponi? Questo soggetto ci sto lavorando ormai da un paio d'anni e quindi è già un bel progetto, quasi la confusione. Che genere è? È un thriller storico. Thriller storico. Basta dire Romain Giovannino, parte con il gladiatore che non c'è da niente. Grazie Giovannino, trappiamo il contratto per favore. Va bene, no, no, ma tienila, tienila, tienila pure. Va bene, ci piace, ci piace. Per te 30 secondi e al mio finale scatenate l'inferno. Vai. L'uomo aveva avvarcato la soglia della stanza e i bozzetti di schlinta erano sparsi per terra. Era tornato al punto di partenza. Sentì un rumore metallico per venire dietro la tenda. L'istinto si abbassò. La macchina del silenzio, l'avevano chiamata così. Il primo priettino lo colpì al braccio. Fece in tempo a raccogliere il tempo un bozzetto da terra. Il bozzetto nascondeva l'immagine in bassa frequenza del freggio di Beethoven. Ancora un rumore metallico, aveva a disposizione soltanto pochi secondi per uscire. Colse giù dalle scale, cercando di non guardarsi alle spalle. Ma si rivolgono agli scarponi. Il sangue continua a scoppiare dal braccio. Al sangue che scorca vozzone! Su, 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 su! Ma c'è qualche rosso, però comunque maggioranza gialla. Vai! Stava a perdere i sensi. Il codice era sempre stato davanti ai suoi occhi, se solo se ne fosse reso conto prima. Ma ormai era tardi. Senza il bozzetto, si è quasi a stintorarlo. Apri il portone, ma sentì il vento schiaffeggiare il viso. Percepì una schiena conficcarsi alla schiena. Un dolore lieve che si fece lancinante. L'unica possibilità di fermare la macchina del silenzio stava per essere distrutta per sempre. E con lei la sua stessa vita. Un suono, non si trattava di un codice, ma di un suono, una semplice nota. Stop, applauso! E' chiaro che qualcuno è più avvenso a parlare al microfono. Questo non deve essere tanto giudicante da parte vostra. Detto questo, la votazione degli editori e degli addetti al settore. Su, un 777777! Ottimo! Difficile fare il calco, però. Grazie!